Sapete da dove arriva il nome di questo Lugane? La Torre di San Martino della Battaglia? Sono Francesco Mascini, titolare dell'azienda Citari, con mia mamma e mia sorella, e queste sono le nostre orgogliose vecchie vittime. Alle spalle c'è la Torre di San Martino della Battaglia, che fu eretta nel 1880, a seguito della Seconda Guerra di Indipendenza, a memoria della Seconda Guerra di Indipendenza italiana, e proprio su queste terre, ad opera di Henri Dunant, anche quella che oggi è la Croce Rossa. Francesco, cosa ti piace di più del tuo lavoro? La sorpresa, il sorriso, la soddisfazione del cliente quando l'assaggio e lo scopre. Dei nostri vini la cosa che mi piace è quella che cerchiamo di trovare in ogni bottiglia, che è l'eleganza, la finezza, la mineralità, la persistenza, ma sempre fondamentale il concetto di equilibrio. La Torre di Citari è un vino che ha fascina, è un vino facile da capire e da interpretare, ha sensazioni nitide, è bello di corpo, è sempre equilibrata. Non è mai sopra le righe, ma è sempre malizioso. Una parola fascina. Ciao! Ciao!